Il cortile della sede UbiBanca di Via Calamandrei per l'occasione si è trasformato in un palazzetto dello sport dove sono andate in scena le più disparate discipline. Come ogni anno è fatti tornata anche ad Arezzo la festa per lo sport e la famiglia, iniziativa che riunisce i figli dei dipendenti di Ubi e i ragazzi delle società sportive Aretine sostenute dall'istituto. È una scelta che ha fatto onore a Banca Etruria perché è dal 2006 che fa questo tipo di manifestazione dedicata alle famiglie abbinate insieme con la festa dello sport. Noi siamo arrivati a maggio del 2017 e questo è il secondo anno, è veramente un qualche cosa che ci fa onore continuare a quella che è stata l'impostazione fatta da Banca Etruria. Tenendo presente che poi abbiamo partecipato anche a quella a livello nazionale patrocinata dal Corriere della Sera dove siamo riusciti a portare in banca oltre di più di mille bimbi e oltre a quello abbiamo coinvolto 1500 famiglie. Qui abbiamo delle società che hanno dato lustro allo sport nazionale perché la Petrarca ha espresso sempre degli atleti che poi sono finiti nella nazionale o nel provabile olimpio. Quindi benvengano queste iniziative e soprattutto benvenga che gli istituti bancari si rivolgano con particolare attenzione al mondo sportivo.